Sono stati sorpresi con quadri di valore rubati in Spagna, per questo i poliziotti della squadra mobile hanno sottoposto a fermo due cittadini peruviani di 42 e 49 anni con l'accusa di ricettazione. Gli agenti, in seguito a un'attività investigativa, hanno raccolto elementi che indicavano la possibile presenza di una rifurtiva proveniente dalla Spagna sul territorio romano. Durante un servizio d'osservazione, nella mattinata del 24 aprile, hanno rintracciati due che entravano in un bar in via Casal de Pazzi con delle grosse valigie. Li hanno identificati e controllati, trovando uno dei due uomini in possesso di 650 euro in contanti e all'interno di una valigia tre quadri avvolti in panni e buste, nonché una scultura di metallo munita di targhetta dalla quale si evinceva la provenienza spagnola. Grazie alla collaborazione con la divisione Interpol del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia si è appurato che le opere d'arte ritrovate erano state rubate all'estero, in particolare i due quadri intitolati rispettivamente Caballo Blanco con Carro e Puerto de San Sebastián dal valore complessivo di 170 mila euro di proprietà della Galleria d'Arte Loren Art erano stati rubati presso l'hotel Miguel Angel a Madrid a maggio 2021. I due uomini sono stati sottoposti a fermo per il reato di ricettazione in concorso e associati presso la casa circondariale di Regina Celi. La Procura di Roma ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida del fermo è contestualmente stata disposta per i due uomini la custodia cautelare in carcere.